benvenuti ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi questo oggi vi faccio l'album fino fino ad ora completo fino ad ora e eccolo iniziamo ma qua 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 c'è solo una guarda la servizio credo che sarò ragazzi avete le gommaglie ne ho già perso 10 su canale e un posto di te dai guardi un altro l'atalanto il prezzo l'allora è bene 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 l'alli torna l'alli cali oggi ecco ecco che è superi Ma non tre, bisogna quello che abbiamo, qua a me. Che è che sta qua? Quello che sta qua a me. L'ananasferono. Qua c'è il pazzo a pazzi. qua c'è Devra e Godin, Skrini andranovic, Padelli d'Ambrosio e Bastogno d'Alocchia Asamoah, Biraghi, Vecino, Sensi, Brozovic, Lazaro, Candrella e lui, Sebastiano Esposito, Sanchez, Lautaro e lui, Romelu Lukaku, Lukaku archiviferi lo special Tai scootbla litorio birds di marco pyrula sinful Hopefully Harry Huggins ora per la Juventus, un certo giro, ragazzi, Lazio, Lecce, è un salpugliese, il Mille ragazzi, in Napoli, Parma, Zagno, Zagno, Zagno che si traccia, ricche che si dispiola sotto, ora capite, io devo riprendere e pesare a questo qua, con 310 punti, il Sassuolo, da spalla, il Torino, l'Udinese, l'Udinese, ecco, anche questi qua, arrivano da marzo, cioè da marzo, a marzo, qui sono, sono 48, e lì aprivo su con la raga, la se la famiglia lo ho finito tutto, mostro la raga, di niente al famiglio, ecco, ecco, questa è la se la B, ho finito il Belemento, qua se la io stanno, ho finito il Livorno, ne ho solo una per finire il Perugio, poi una per finire il Pescaro, una per finire il Pescaro, una per finire il Pescaro, ho finito il Porterone e la Sarnigiano, ho finito la Spezio, no, 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 non ho finito la squadra, poi, ma deve essere solo la squadra, ecco, ora, e poi, gli Annatori, oh, quel della serie B, tu, tu ti ce l'ho, da serie raga, sarò solo lui il più saldo, Antonio, Candre, Antonio Conte, sogno di sogno, sogno azzurro, da Perfetto, Domenico Luca, These sto in piedi, andiamo, e ho a conoscere il Pescaro, vediamo, è un bel secondo, senza guarda, è vero, ecco raga le bellezze vedi raga mamma raga cioè stanno tutti attaccati sono Inter Juve e Inter Juve e Lazio sono attaccati ah raga dove c'è Lazio e Inter vedi ah io gioco con i Brecci vedi un brecci vedi l'Inter sta sopra per i golfatti ora che però noi siamo la miglior difesa con la Lazio ci sono due miglior difesa vedi Lazio e Inter Lazio vedi qui ragazzi oggi i video finiscono qui spero che vi sia piaciuto e metto un like ci vediamo in un prossimo video con Inter Gravino 10 bella raga ciao ciao